Per semplificare la table cap quest'anno, così non sbagliamo. Siamo pronti? Siamo pronti? Non sento? Sì! Non vi sentono? Sì! Avete sentito? No, in tribuna non sentono. Uno, due, tre! Bene, facciamo applausi scroscianti per la squadra Turam e la squadra Buffon! Buffon! La squadra Turam e la squadra Buffon cosa fanno? Contraccambiano l'applauso per tutti i loro compagni del camp! Bravi! Grazie! Bene, ogni mister può accompagnare il proprio gruppo sotto la dottola! Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti